Buongiorno, sono Fabiola Romani, la conduttrice del TGLT4 Blog. Ultima ora, passiamo alle notizie. Caorle, enti del terzo settore e associazioni sportive, parte un progetto pilota di consulenza, un supporto alle associazioni del territorio per mantenere costante l'aggiornamento alle normative e favorire la costanza delle attività. Con questo spirito il Comune di Caorle ha deciso di far partire un progetto pilota che permetterà di garantire consulenza in forma privata alle realtà sportive e del terzo settore che operano sul territorio. La prima giornata di sperimentazione si terrà a dicembre sulla base delle adessioni raccolte e si valuterà se nel 2025 sviluppare ulteriormente il servizio. Nel frattempo, nell'imminente, sono stati programmati due incontri di formazione per le associazioni locali. Il primo si terrà giovedì 24 ottobre alle ore 17 nella sala Hemingway del municipio e sarà dedicata alla riforma del terzo settore. Durante l'incontro saranno date informazioni sull'aggiornamento della riforma dedicata agli enti del terzo settore sulle modalità di funzionamento RONS, registro nazionale, terzo settore, sulla contabilità e gli schemi di rendicontazione e sulla fiscalità per APS e ODV. Il secondo incontro si terrà invece lunedì 25 novembre alle ore 17 nella sala Hemingway del municipio e sarà dedicata alla riforma dello sport, con particolare approfondimento su forme, statuti e personalità giuridica. Lavoratore sportivo, aspetti fiscali e previdenziali, volontariato sportivo, MOG, modelli di organizzazione, codici di condotta e safeguarding. Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti e curati dallo studio, era commercialisti. Gli enti del terzo settore e le associazioni sportive, spiega l'assessore allo sport e politiche giovanili, Mattia Monerotto, rappresentano un vero e proprio patrimonio per la nostra comunità, che il comune di Caorle intende tutelare. Grazie alla loro attività vengono garantiti servizi fondamentali per famiglie e cittadini. Abbiamo il dovere di sostenere queste realtà anche nell'affrontare gli aspetti burocratici, sempre più variegati e complessi. Gli esolo villaggio natalizio più di 70 casette in via Trentin. Conto alla rovescia per l'allestimento, artigianato e prodotti tipici. Saranno protagonisti anche quest'anno del villaggio di Natale. Da poco si è conclusa la procedura di assegnazione delle casette che compongono il boulevard e che collegheranno Piazza Mazzini con Piazza Aurora, riempendo di profumi e colori via Silvio Trentin. Ci saranno più di 70 chalet tra postazioni singole e doppie per una quarantina di operatori coinvolti. L'abbio delle operazioni di allestimento è previsto per i prossimi giorni, con ampio spazio e visibilità ai prodotti artigianali e le produzioni locali e enogastronomia, andando e valorizzando i singoli territori con le loro tradizioni. Piazza Mazzini e Piazza Aurora saranno i punti nevralgici del villaggio di Natale, la prima con attrazioni e giochi per i più piccoli. Mentre la seconda con il centro operativo di Babbo Natale e dei suoi aiutanti elfi. Ricchissimo il programma degli appuntamenti, con animazione, laboratori, musiche e grandi eventi. Uno spettacolo stupefacente ispirato alle fiabbe fantastiche con performance spettacolari, una sfilata di personaggi fantastici su trampoli con bellissime coreografie, uno spettacolo itinerante a tema Alice nel Paese delle Meraviglie. A Jesolo durante il periodo natalizio, cultura e arte rivestono un ruolo da protagonista, a partire dall'atteso ritorno di Jesolo Spirituals. La rassegna di concerti Gospel in programma il 28 dicembre e poi l'1 e il 4 gennaio. Rimanendo in ambito musicale, il 26 dicembre si terrà al Teatro Vivaldi il concerto dell'orchestra Naonis con Antonella Ruggiero e il 29 dicembre sullo stesso palco si esibirà l'Aurora di Wind Band. Ad arricchire il palinsesso degli appuntamenti sarà poi lo spettacolo Betoniche Doc del 31 dicembre, sempre al Vivaldi per un capodanno d'eccezione a teatro. Il Tg finisce qui, io vi ringrazio di avermi seguito, ci vediamo alla prossima. Un bacio da Fabiola Romani. Ciao!